bentornati amici allora abbiamo appena fatto fuori fatto fuori è esploso davanti a noi il povero oste il povero oste che insomma ha avuto la peggio nella gara di bevute nel senso che abbiamo fatto finta di bere tutto umiliamo chiedemente scusa il maestro destellatore ha sversato un causamento ora se dire amico è sorso infatti porto ditti che cavolo che cos'hai che cos'hai un monte in un'aria scura in arrivo è quello che ne capisce senti bene mi lascia di lasciare baciare dal vecchio porto di cosa i tuoi molteggi sono rivelati troppo arguti per lui è un relitto valvettante ok ma scusa ma qua c'era un bancone ma che fine ha fatto il bancone dovremmo credere che è esploso insieme a lui ah non era questo no era questo il bancone vabbè una tavola comune bloccale di birra liquore dei miei coglioni scelto di graffio mi dica cosa 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 stai puntando mi dica mi dica graffio ok 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 Bene. Ok, quindi là ci sono le torri dell'alba lunare Boccale birra Asciugamano E quindi non ci dobbiamo per adesso andare Ma che calzo era quella roba lì Dica, dica Well done Bravi tutti Bene Deliciously dramatic Fine Bocchio Sì! a vero nemm Non vedo l'ora di andarmene a sto posto di merda Mi rendo conto che siamo ben lontani da aver finito sta zona Ma fa veramente cagare Cioè con la capacità di grafica che c'ha sto gioco Di resa grafica ci trocca Vede le terre d'ombra Fortuna me le fanno Spero che più avanti non me le fanno Ma ci togliamo dalle palle subito Chiave Scheletro C'è trovato Sì mi dica Sì Niente Non ci siamo accorti del sepolto Dell'oggetto sepolto Dell'oggetto sepolto Un po' di verdura fresca Sì 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 Ah! Ligiamo? Niente Cioè sono questi? Non penso eh francamente Però questi li devo far fuori in prima No I hope your soul is in your hands Ready for another round? Swift and Vlito. Well done! bene che dovrei fare? Allora Vediamo che si può fare qua Chi è che fa i ruti Qualcosa che deflagra non ce l'abbiamo Qualcosa che deflagra Che deflagra Colpisci qualcosa A tua scelta Non so Qualcosa C'è Fai quello che ti pare Non so Sì Sì Ah c'hai volta cazzo Zio canaia Mancato Come ti permetti Allora Allora Aye, aye Beccali questo 10 10 Mancato Noo That's fine Mamma mia che legnata Yeah Time to deal some punishment Okay Okay Fuck yes Open up Breathe deep And move Yeah bene bene ok ubitorio tu mi dici andiamo a vedere l'ubitorio ci mancava l'ubitorio no traps no traps please what's that ok ok schifo i bet that'll fit in my pack ok 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 Ma Mi da lusso a non me la fare scappare Bene Accendiamo un po' di luce qua Eh Ah Giustamente è rimane acceso Allora Carlac non si può Non si può cogliere la sprovvista Comunque è veronosa sta zona Bravissima Per me Non c'è No c'è No c'è No c'è No c'è LISCIO Che cazzo ne siete qua ragazzi? Ma coglione del merda Ma coglione del merda Lasci la mia nuova diventata. Io vorrei capire una cosa Ma che possiede chi? Non lo so, regà Non riesco a capire Per 300 monete Che possiede Cioè chi possiede io Che possiede l'obiettivo Perché che l'obiettivo abbia 300 monete È difficilissimo insomma Beccati questo Lish Lish di nuovo Lish di nuovo Lish di nuovo Lish di nuovo Another fight Let's go I'm Fury I'm a Grrrr I'm a Grrrr I'm a Grrrr E' morire I'm a Grrrr Grazie a tutti. 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 Vai con Dio là sopra, va. Allo? Grazie a tutti. Vale. Ok. Mi sa proprio che serve... Mi sa proprio che serve che venite tutti. Vai, venite. Salve una chiave. Ah, leva, ma va, va. Andiamo, ragazzi. Andiamo, ragazzi. Oh, andiamo. Oh, no. Andiamo. 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 Allo? Che merda! A couple turns should do it. Okay. Ma dove stanno tutti? Ma sono rimasti là! Ma perché? Andiamo! Deficienti! Su! Dai! Oh! E dai! E che cos'è, namo? Niente, non si avventurano, non si avventurano! Ah, bravo! Non si avventurano, non si avventurano, non si avventurano. Non si avventurano, non si avventurano, non si avventurano. Non si avventurano, non si avventurano. C'è qualcosa di buono, spero. Eterno riposo dei beati. Un'ispirazione molto bella. Che merda, madonna! Ma stavo sprecando ispirazione, madonna! Ok, adesso, cortesemente, andiamo qua. Mentre dovete venire qua. Mentre rimangono la. Klung. Donne, dovete venire qua! Sempre a vostra struttura. What's cooking? Got it. Hey, good looking. Indolence breeds madness. Oh my God. Flacchets will be done. Re-positioning. What to do? I'll give it a shot. On my way. Ex-textual. Ex-textual. Oltre a un braccio staccato, come dire. Ah. Ah. Sì eh ci mancherebbe allora cioè io non ne vedo non vedo il motivo per cui dovremmo fare dovremmo fare una una battaglia qua sotto francamente ve lo dico proprio in somma amicizia però se proprio dobbiamo dobbiamo far venire anche gli altri eh tu rimane in cua oh è sufficiente di aspettare ho chiesto la carne tutto là sotto non c'è penna è un po' è un po' che vuol Siamo vivi Continuiamo andiamo a continuare, continuare con quello se ne fotte provera se ne fotte provera come stiamo andando? non non ci si decide non ci si spiega non ci si spiega non ci si spiega non ci si spiega Grazie a tutti. Non sono sorpreso. Anzi, sai che facciamo? Mandiamo giù Carla perché lei non può essere sorpreso. Oltre a essere fortissima. Ma chi è sorpreso? Tu madre è sorpresa. Ascione, non reazione. Bello che pure lei potrebbe saltare da qua. C'era chi gli è vietato. C'era chiudere. no one's stopped me yet I'm just out of view my faith will guide me none shall see me unnoticed good invisible me ok 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 I can't afford to fail. 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 I am death. I can't afford to fail. 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 Perchè ho bisogno di più pocchetti. Che hai trovato? Bene Well done Ubrione bastardo Allora Ok Queste immondizie raccogliere Non è che augusto Luogo dove tenere le provviste Ok Ok. Buona. Oh my, must be what's left of that would be extortionist. Spiegante rivista. Vabbè. Ok. Fine? Dobbiamo tornare qua. Anche qua, ragazzi, sembra quasi tutta fatta la situazione. Andiamo in maniera molto spedita. Andiamo qua. 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 Cioè stanno un po' dei problemi lì, effettivamente, raga. Avete qualcosa da dire riguardo? Andiamo via da questa immondizia. Niente, è partito il conteggio a caso. Va bene. Allora. Questa è un problema, raga. Bello grosso. Oh, sì. Jimmy, on the go. Non ho capito. Non ho capito. Victory awaits. Brazissimo, gats. Brazissimo, gats. Brazissimo, gats. Brazissimo, gats. Brazissimo, gats. Grazie a tutti. 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 Buono. 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 Mazzarazzo. Buono. Sai che tutti. queste stretch. ce le potrei passare. qualcun'altro. a questo punto. visto che... tre... 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 ... ma... 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 non... 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 tu... tu... lei... è... 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 bella cosa poi... mi dia qua... e... mi dia qua... non... 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 che... che... ... ok... ho un'altra via si non 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 Adesso Dobbiamo dare un pochino di pozza in giro Eccoci qua Alp Ok Alla prossima Basta Sorger Sentiamo Canegraffio Che sta facendo un ottimo lavoro Canegraffio Agatha Bravo maiole Happily ok Allora Ah Tocca rifauta sta faccenda qua Andiamo a vedere l'esercito di Moria Andiamo a vedere l'esercito di Moria Salve Perché ma come potrei fare a Ad andarci Ok Ok Quasi quasi Mi scinfilo il naso Altro che Oh Oh Ennamolo Alla Allora Allora Time to skulk about Don't burn yourself Indolence breeds madness What a charmer Turn down the fire Turn down the fire Turn down the fire Turn down the fire Andiamo a Should've worn better boots. All by my hand. What path lies before me? My turn. The mission has to come first. No, come è mancato? Ma come è mancato? Ma come fai se è mancato? Mancato, dice. I will take the artifact for my queen. Ma come fai se è mancato? 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 Allora. Ma come fai se è mancato? 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 Grazie a tutti. 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 Erano tutti. Grazie a tutti. che è un po' un problema arriva il Baldur's Gate in queste condizioni mi serve un travestimento come si deve basta qua Baldur's Gate va bene, allora ragazzi, è tutto fatto quel che potevamo fare l'abbiamo fatto quindi è giunto il momento di tornare al perché devo entrare là dentro quindi siccome quella spedizione là sotto in quel dungeon sicuramente è roba non semplice direi che prima di tutto ce ne andiamo, ce ne dormiamo all'ultima luce c'è soltanto una piccola cosa che voglio finire da esplorare devo tanto andare qua in modo che l'area nera si ridini il più possibile noi 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 la è la 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 Bene Adesso Torniamo qua Tiè, guarda che rubetta Che sciccheria Allora, prima di tutto Andiamo subito al fabbro Vedete se ci può risolvere la situazione Ho trovato il ferro infernale Di cui parlavi Il suo peso è quello Pampata di caos Non riesco a immaginare Come sarebbe avere questa cosa Al posto del mio cuore Deve essere un'esperienza intensa Povera, madonna Oddio, che carina, madonna No se rompe il martello No se lì Si rompe il martello Ecco fatto Dovrei stare all'orduto Ma non credo che Tutti i riami esistano Dei guantoni abbastanza spesso Non c'erano Non credo che ci sono Trici di gioco in tutti i luci Per proteggere E chi lo fa? Come faccio? Come fa a farlo? Beh, non riusci a nascondere l'allocurazione, faccelo vedere. È una sezione buona. Sono ancora calda, come un buco all'inferno, ma mi sento meno muntevole. Come se l'hai installato, scusa. È sempre più divertente per quanto riguarda il calore. Non ho ancora trovato una soluzione, ma non mi arrendo. Potrebbe servire una specie di isolamento alla camera di combustione, se avessimo una sorta di refrigerante incantato. Spero che la prossima volta ci vicino avrò qualcosa più permettente di raccontarmi. In caso avrò bisogno di un altro ferro infernale, quindi tieni gli occhi per chi sta mi bello. Come se l'hai installato? Non ho capito. Cioè non abbiamo, non abbiamo risolto. Vedamente Damon mi ha fatto andare in tutti i giudici. Bene. Bravissima, cazzo. Però non posso ancora boccarti. Sì. Certo che sì. Cioè, Lazzle, tu voglio dire, impara a metterti da parte perché altrimenti... Allora. Cioè non è che si mette da parte, vuoi dire? È una bella cosa a tre a quattro, cioè tranquillo proprio. Easy. Oh, Dazzle, ma che stai a far qua a tu? Ah, è barba brutta. È colorata, è dipinta. Continua a dire il nome di Daniel. Deve essere sempre qualcosa di più... Dobbiamo sapere qualcosa di più, dobbiamo svegliare. Attorno a un giudo sembra appartenersi al pugnovegna. Vai. 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 Ah, ma è lui, ArtCore. Sono trappolato nella corte oscura per un secolo. Prendi un attimo per schiarire queste idee. Devi sapere dove è Taniel. Se mi avessi avventurato nella corte oscura della cieca, non lo troverò mai. Se mi avventuro. Non sono cerchio di poterlo descrivere a parole. Lì il paesaggio si sposta e cambia. C'è qualcosa che potrebbe guidare dalla luce. C'è qualcosa che non è cambiato. Lavanda. Lavanda. Il regio del re del lago è quello che ci serve per procedere, ma avrò bisogno del tuo aiuto. Tieni pronto, potrebbe dimostrarsi pericoloso. Strano. Bene. C'è qualcosa che è vero. Tra l'altro, visto che andiamo qua, dovrebbe esserci Bex. Un attimo senti Bex che sta a fare qua. Dovresti fare attenzione, ci sono persone pericolose in giro. Chi sei tu, perché stai piangendo. Smetti di piangere. È così buio che non me ne sono accorta finché i bambini non hanno iniziato a urlare. C'erano radunato Frito e hanno detto che avrebbe portato chiunque riuscisse a tornare. Mi sono riuscito a scappare, ma è il mio amore, Dennis' mother. Come sei riuscito a scappare? Sono sempre stata brava a correre la differenza di Dennis. Non avrei mai pensato che un giorno le nostre spese sarebbe ripetitata questo. Vorrei solo essere riuscita a dirgli addio. Possendimi utile in qualche modo di portarlo indietro. Puoi farlo? Però è il mio amore è lì per trovarlo, ma non posso permetterlo. È difficile immaginare il farlo dopo tutto che... Ora possiamo iniziare. Ora possiamo iniziare. Hai intrappolato Tania e l'abbiamo con l'oscura, ma grazie ai tuoi sforzi io risolvo di cercare. Devo andare là dentro da solo. Non dovrei venire con tu. Ci sono uno di cento anni per avere questo apportamento. Devo stare se devo farlo io solo. Ma non ti ho portato qui solo per vedere un vecchio druido che si mette in mostra. Hai un ruolo da svolgere con questo e confido che tu lo svolga bene. Tra la versione di Padre Quercio posso entrermi nella colta oscura, ma farlo con solo nella mia forza. Ho bisogno di tuo aiuto che tornerai indietro. Mi serve che tu resti qui, tieni aperto il portale fino al mio ritorno e difendilo a tutti i costi. No, non sono in grado adesso di fare... Verrò con te. Difendilo, cosa intendi dire? Ok. Mentre hanno come avvolto e cercheranno di ristruggere, non ti dover permettere che succeda. Cominciamo. Qualunque cosa succeda, non cercare di entrare nel portale e non permettere che qualsiasi cosa si trifisca con esso. Ma ci sono molti anni di studi. Con il favore del Padre Quercio ho per trovare un modo per sollevare il velo. Preca che funziona. Ascolta, mi aiuto, mi spalanca le manciate dello scuolite e crea un passaggio per il tuo portatore di luce. Ci siamo, tornerò a Quintana il prima possibile, tu resta vicino al portale e fammi guarnere il più tempo possibile. Ali, immediatamente proprio. Alla prossima. Allora Allora Il piso dell'ombra, dove sta? Non vedo la scelta Zioca Non vedo la scelta 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 Vedi si vedi si Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 . Sì. . Sì. 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 Andate, andate Beccate Beccate Tre turni Eh, che famo Finito? A chi sta? Niente, regà Siamo formati così Ah Dai, regà, forza Scatta, scatta Beccate Beccate noooo andato la forza la forza a 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 Sì, sì, sì. Sì! Sì là! E questo finiriamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Well done. L'ugazzo sta su un astino di merda. See you. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Well done. Alla prossima. Alla prossima. Cambi. Cambi. Dobbiamo condurre Daniel a un luogo sicuro. Sì. Sì. Alla prossima. Alla prossima. Che sono sovraccarico a dir poco. Diamante. Diamante. Dove ho trovato diamante? Bella sta. Bella sta. Bella sta armatura, amici. bello. Bello. Prenditela. Bello. Thoughts of baby names. She did not wish for her firstborn to be named after her mother-in-law. Maldred. Ugh. You sense a fading echo of the person who lives was. You can almost feel the heat of faded much. I don't care for the memory of a boy and girl. Desperate Prost is likely echoing from the past of battle against what they did not save him. He and his comrades toast each other in last light. What's inside? What's inside? What's inside? Sight. Sight. Something over there. What's inside? What's inside? I know. What's inside? A long time ago. E' capitato tantissimo, lo schiacciano morti è stato fondamentale Ok Ora un attimo capire no? Prima di salutarci Quindi qua in vera c'è forse una tomba Vediamo eh Forse no, boh Ok Ma che cazzo è successo? Bene Allora Questo è quanto? Qua cos'è? Ah perchè è sovraccarica Un bel lavoretto qui eh E' ora di guadagnare un po' dalla vendita di tutti questi sforzi Molto bene ragazzi, allora Da quale parte? Perdonami E' partito la voce de marra così a caso Allora vai Accampamentolo Andiamo a sentire il cinema e poi basta Andiamo a sentire il cinema e poi basta Ma è troppo agitato Ho scoperto cos'è che non va in lui, mi dica Trascinando nelle coltre oscure le ombre lo hanno spaccato in due metà distinte Metà della forstenza è rimasta qui nel mezzo della maledizione Quando ecco Che è rimasto indietro doveva essere la parte più forte ma dopo tutti questi anni ho scuritato la forse deve averla ignottita Come sai tutto questo? Sapevo che qualcosa non potrà perchè non potevo svegliarsi ma ora sono decisamente convinto A quest'ora abbiamo dovuto manifestare semmeno una bricola del potere di Daniel Una bricola del suolo, un verdimento, un bocciolo di cuore invece è niente C'è un rimedio? Forse se riusciamo a trovare la metà perduta di Daniel renderlo non completo Il guaio è che la metà mancante potrebbero non volere tornare indietro Le tentacole di maledizione saranno ormai ficcate al fondo dell'essenza di Daniel Rassorcendo la inn e qualcos'altro Ho incontrato una specie di bambino di Lomba prima, un ragazzino chiamato Oliver più o meno dell'età di Daniel E hai visto un bambino con i tuoi occhi? Non può essere una coscienza ma dobbiamo assicurarcene E intendo dire insieme se lo desideri, ogni istante è prezioso e ti ho chiesto ogni tanto senza me accompagnate Mi occupo io Questo non deve essere il tuo burden solo Ogni momento può essere e ho chiesto ogni tanto senza me accompagnate Se mi vorrai serlo contro una lezione, contro l'assoluto, contro qualsiasi cosa, basta una parola Qualcunque Solo diciamo la parola Non c'è nulla per me, sono freddo Potremmo dismiare un altro, poi posso giocare Prendi il tuo tempo Quindi finalmente Entra 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 il team ragazzi Ci hanno messo di tempo ragazzi eh Molto bene Ragazzi Questo è quanto La trama siamo andati un bel po' avanti oggi Non abbiamo ancora risolto Karlak Però Abbiamo fatto dei progressi Bene Dobbiamo andare lì Trovare sto tizio Sta a metà del suo ragazzino Poi dobbiamo andare all'alba Le torri dell'alba lunare Anzi prima andiamo a cercare quel Quel demone, quel diavolo Che tanto caro ha Tirion Un attimo senti Karlak Prima va Che sta sempre parlando solo come se fosse tormentato Bene ragazzi Grazie a tutti Alla prossima